Mi prendo un po', mi fanno sconto. Questo? Cosa ha di colore? Blu quanti ne ha? 4. 4 più 1, 5, poi cos'ha ancora? Sempre 39, 40. Basta. Allora mi dai 5 e mi faccio super sconto però. Sono quelli lunghi qui. 17. Come? 17. No, 17. Sono 5 e che 17? 2 e 7. E lo sconto? E lo sconto? Sì. Fammi 2 euro l'uno dai. Non ce la faccio. Sono 5, 10 euro dai. No, ce la faccio. Eh vabbè. Aspetta, facciamo cos'ho. Posso fare 15? No, aspetta. 12. 12 dai. 12 e mezzo. Aspetta che stimo fuori. 13 dai. No, non ce la faccio. Eh, no, mi è spiato. Ah, mi sono 9. 2, 4, dai. 14, 15 dai. Ecco di qua. 14, allora 10, 2, 4, 10. Grazie. Grazie.